Siamo qui con l'assessore al commercio Mario Cozzi, assessore, domani riparte la stagione filistica di Teramo, la quarta stagione, quali sono gli appuntamenti più importanti di quest'anno? Allora, quest'anno, come gli altri anni, sono cinque gli appuntamenti, cominciamo con la fiera d'autunno a San Nicolò, per poi proseguire con quella di San Berardo a dicembre, via via, poi Epifania, San Giuseppe e Primavera. Anche quest'anno, come gli altri anni, c'è stata di nuovo una convenzione affidata alle associazioni di categorie Confsercenti e Confcommercio, con le quali abbiamo instaurato un nuovo rapporto, un nuovo rapporto in che senso? Sotto l'aspetto, noi a loro abbiamo chiesto di riqualificare, per gradi, chiaramente, passo passo, anno per anno, delle fiere che secondo noi stavano diminuendo di qualità. Che significa anno per anno? Anno per anno significa che, ad esempio, cominciamo per gradi, quest'anno a San Nicolò cominceremo da Piazza Progresso, dove il dispositivo sarà diverso in virtù del fatto che sulla piazza saranno esposti senza furgoni, e in più ci saranno tipicità e prodotti di qualità a migliorare un attimino l'attrattività. Questo per cominciare così e poi ampliare anno per anno le aree etiche. La stessa cosa avverrà nella fiera di San Berardo, che quest'anno si svolgerà non il 19, come era classico, ma il 20, in virtù del fatto che il 19 quest'anno, cadendo di sabato, sempre con le azioni di categoria, senza imposizioni, in comune accordo abbiamo scelto di effettuare il sabato mattina 19 il mercato, il pomeriggio la processione solenne, che era una richiesta anche sulla base della quale la curia ci chiedeva un attimino più gli spazi liberi, da parte il Corso Vecchio, per renderla chiaramente più solenne, e la domenica e il giorno successivo l'intera giornata la Fiera di San Berardo. Anche su questa è importante che la prima parte del Corso San Giorgio, quindi qui i portici, l'area di Piazza Martiri, le due vie a fianco al Duomo e la prima parte del Corso Vecchio, quindi fino ad arrivare a Laci, saranno anche lì senza furgoni e chiaramente ci sarà un impegno maggiore da parte delle associazioni di categoria a migliorare la qualità anche della merce esposta. Grazie.